Mi chiamo Baudwein, sono olandese, sono qua con un gruppo di 12 persone, siamo tutti olandesi, abbiamo avuto l'idea di fare un viaggio culturale e calcistico e alla fine abbiamo deciso di venire a Roma perché la Roma è una grande squadra, Roma come città è splendida, andare allo stadio e vedere la Roma vincere battendo la Juve, una squadra tipica di Mourinho che punta molto sulla difesa forte, il mio compagno Wesley ha trovato 16 birra online, ho mandato un messaggio a Juve e poi adesso siamo qua, è perfetto direi, forza Roma, forza Roma! Unico grazie a voi, per la tanta gente che ha fatto una nuova! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.